Parlare da leader significa far comprendere immediatamente le cose, proprio per lanciare i messaggi giusti, stimolando senza incolpare. Emanuele Calaiò, nuova punta del Catania, oggi ha fatto proprio questo. Il Catania stenta, prende tanti gol, il motivo principale è che gli altri hanno dimostrato di avere più fame. Alla fine sono stati errori anche magari di concentrazione, perché alla fine se tu vai a vedere di questa rosa pochi giocatori hanno fatto la Serie B. Io e qualcun altro che l'abbiamo fatta sappiamo com'è. La Serie B è questa, non ti puoi rilassare un attimo. Partiamo dal presupposto che chiunque gioca contro il Catania fa le partite della vita. Quindi alla fine se tu vuoi vincere il campionato e vuoi fare le cose fatte bene, devi avere più fame degli altri. Mancano ancora 40 partite e Calaiò è convinto che se tutti capiranno a fondo cos'è la Serie B, il Catania rialzerà la testa. Questa secondo me è la squadra più forte che io ho avuto in Serie B quando ho vinto il campionato a Torino, a Napoli, a Siena. Bisogna oltre alla qualità mettere l'atteggiamento, l'atteggiamento e la voglia giusta. Poi c'è il dettaglio tecnico e il simpatico botte risposta con Rosina sugli assist da fare al compagno e amico. Per adesso il numero 10 ross-azzurro è davanti nella classifica dei cannonieri. Calaiò lo stima moltissimo e un jolly dice può ricoprire tutti i ruoli ed è un gran professionista. Magliassi spiega, me li deve fare lui e per farli. A me sta un po' più avanti. Grazie.